Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Angel del mondo di Buffy. Come già annunciato nel video di una decina di giorni fa, vorrei parlare con voi delle stagioni a fumetti di Buffy e Angel, in vista anche della decima stagione a fumetti, sempre canonica, che uscirà il 18 novembre, edito da Salda Press. Purtroppo la Salda Press non ripubblicherà le stagioni 8 e 9 che sono già uscite in italiano da un'altra casa editrice, dalle edizioni BD per quanto riguarda Buffy e dalla Italy Comics per quanto riguarda Angel. Però molte persone ho scoperto che non sanno cosa è successo nella stagione 8 e nella stagione 9 di Buffy per poter leggere al meglio la stagione 10, e qui entro in scena io e cercherò di parlarvi di cosa è successo nel frangente. Non possiamo parlare della stagione 8 e 9 di Buffy senza parlare della stagione a fumetti 6 di Angel, dal titolo Angel dopo la caduta, poi in realtà è il titolo solo di un arco narrativo della sesta stagione, ma mi piace come titolo, lo voglio dare un po' a tutta la sesta stagione. La sesta stagione si divide in due grosse macro trame, oggi parleremo solo della prima grande macro trama, perché la seconda cambia decisamente tono e non vorrei davvero dirvi troppe cose. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video, un non mi piace, e anche a tutti gli altri che ve frega, esplorate le altre playlist, condividete il video con tutte le persone che hanno delle zanne da vampiro e commentate qui sotto con quello che ve ne è parso di questo video e di quello che vi ho raccontato di questa stagione di Angel. Allora, Angel dopo la caduta, la prima parte di questo grosso arco narrativo si può suddividere in circa 17 numeri, per così dire, sì, 17 numeri di questo formato, quindi di così a occhio vi direi una trentina di pagine. Questi sono gli unici numeri pubblicati anche in Italia, più un diciottesimo numero, che però non corrisponde alla numerazione americana, perché questo in America è il numero 23, come mai direte voi? Cos'è successo nel 18, 19, 20, 21? Non si sa perché la Italy Comics ha pubblicato il 18 come epilogo e non è più andata avanti a pubblicare. Ha pubblicato anche due numeri con Drusilla, che sono dei numeri speciali, il numero 1 e il numero 2, secondo la numerazione italiana. In realtà questi sono i numeri 24 e 25 della numerazione regolare di Angel After the Fall. Però, vabbè, fa niente. Tra l'altro ci tengo a ringraziare Buffy Italian World per avermi aiutato con la numerazione originale, per avermi guidato meglio su quelle che sono le tavole originali americane e per avermi aiutato a continuare la lettura della numerazione originale fino alla fine. Fino alla fine si intende all'incirca attorno ai 40 numeri di Angel. Oggi quindi parleremo solo dei primi 17 e nel prossimo video parleremo del secondo arco narrativo che comprenderà tutto il resto, fino ad arrivare a confluire, diciamo, nell'ottava stagione di Buffy. Nella sesta stagione di Angel fondamentalmente succede questo. Si apre esattamente dove avevamo lasciato il finale della quinta stagione di Angel, con quel fantastico cliffhanger in cui l'Apocalisse era stata mandata a Los Angeles dalla Wolfram e Arta. I soci anziani avevano scaraventato un intero esercito su quello che rimaneva dell'Angel team, ovvero Angel, Spike, Illyria e un Gun ferito mortalmente. Si concludeva con un cliffhanger, con Angel che diceva mettiamoci al lavoro e era chiuso subito con un fade in, con un nero che non ci faceva vedere assolutamente come sarebbe finita la battaglia, lo vediamo in questo fumetto. In questo fumetto vediamo Angel che cavalca il drago. Il drago che si scoprirà dopo pochi minuti di battaglia non era un avversario di Angel, ma era dalla parte di Angel, era lì per combattere tutti i demoni scagliati dai soci anziani. Molto conveniente devo dire, però ci sta, è molto divertente che non avendo un budget massimo a disposizione come nelle serie tv, nei fumetti si possano sbizzarrire nelle cose più fantasy assolute. Mi piace vedere che questo drago fondamentalmente sia parte del team Angel, tant'è che Angel lo chiamerà Cordelia, in memoria della cara Cordelia, e mi piace anche vedere che in questa storia, in questa Angel dopo la caduta, vadano a ripescare molti personaggi interessanti che purtroppo si siamo lasciati scappare nella serie televisiva. Mi riferisco a Gwen Raiden, la ragazza elettrica, che è davvero un personaggio interessantissimo, a Nina, l'ultima ex ragazza di Angel, la lupa mannara, e anche più avanti utilizzeranno anche il personaggio di Kate Locke, la detective della polizia di Los Angeles, che sembrava un po' un interesse amoroso nelle prime due stagioni di Angel e poi l'attrice è andata via, perché giustamente non gli stavano dando più il giusto peso e quindi non abbiamo più avuto questa fantastica attrice che è andata a fare tra l'altro la poliziotta in altri telefilm. Tutti questi personaggi ritornano, Connor che ha entrambe le memorie, sia la memoria del suo passato originale sia la memoria dei suoi ricordi impiantati per vivere una vita normale, diciamo ha fatto pace con Angel e con se stesso e lo aiuta a salvare gli esseri umani da questa Los Angeles spedita letteralmente all'inferno. Proprio perché è stata spedita letteralmente all'inferno i demoni ci hanno messo poco a crearsi delle zone, dei quartieri di cui loro sono i signori e padroni. Abbiamo i signori di Beverly Hills, il signore di Silver Lake e così via e così via e così via. Tra questi vari lord, queste varie gang che hanno suddiviso Hell A, così soprannominata come gioco di parole tra Los Angeles e Hell Inferno LA, abbiamo anche Gun. Gun, che abbiamo lasciato ferito mortalmente nel vicolo nel finale della quinta stagione, come ci si poteva aspettare appunto è stato... è morto, ma non nel senso che potreste pensare. Purtroppo è stato trasformato nella cosa che lui più odia al mondo, ovvero in un vampiro. Gun è a tutti gli effetti il Big Bad della stagione 6, esattamente come Willow era la Big Bad della stagione 6 di Buffy. Abbiamo una serpe in seno, un nemico che era parte della gang del protagonista. Gun cerca ad ogni modo di fare del bene perché lui ha passato tutta la vita a combattere i vampiri e vorrebbe continuare a combattere vampiri e demoni nonostante lui stesso sia diventato un vampiro. Ma è chiaro che questo suo percorso andrà scatafascio proprio perché la sua mente è sempre più contorta da questa lotta interna che cerca di combattere e di cui sicuramente non l'avrà vinta. Lui crede che la sua forza di volontà è superiore alla forza di volontà che aveva Liam, che aveva Angel, e crede che proprio perché la sua forza di volontà è così forte lui riesca a domare il demone che c'è dentro di lui, al punto che quasi si convince di essere lui il vampiro con l'anima della profezia Shanshu. Ce l'ha con Angel perché l'ha lasciato nel vicolo a morire, non l'ha salvato, l'ha fatto in modo che venisse trasformato in un vampiro e vorrà farlo soffrire per questo, così come tutti gli altri lord di Los Angeles di cui Angel si fa nemico perché non riesce a stare fermo con le mani e quindi deve uccidere demoni inimicandosi un po' tutte le varie gang di Los Angeles. Tra i vari alleati invece che Angel ha abbiamo un Wesley Wyndham Price redivivo per così dire o quantomeno un Wesley Wyndham Price fantasma esattamente come è stato Spike nella stagione precedente. Perché questo? Perché se vi ricordate bene il contratto con la Wall from my heart che tutti hanno firmato all'inizio o alla fine della quarta stagione se non sbaglio all'inizio della quinta va ben oltre la morte come ci spiegava Laila nella stagione 4. Per questo motivo Wesley è stato riportato in maniera non corporea in vita come neanche guardia del corpo di Angel ma diciamo come link tra Angel e i soci anziani. Il design di Wesley è esattamente quello delle prime stagioni, un completo tutto impettito come come era dipinto nella terza stagione di Buffy o nelle prime stagioni di Angel, proprio per far vedere come il suo ruolo sia quello di un impiegato della Wall from my heart e non sia appunto un cacciatore di demoni selvaggio come era poi diventato col passare delle stagioni. Tra i vari personaggi che daranno una mano a Angel fino a fargli capire che il nemico mortale di questa stagione è proprio Gunn, avremo Lorne che come sapete se n'è andato nell'ultima puntata della quinta stagione di Angel e però per qualche ragione è rimasto a Silver Lake, uno dei quartieri di Los Angeles dove ne è diventato il signore e cerca di trattare Silver Lake esattamente come trattava il Caritas ovvero come un luogo di pace dove non c'è bisogno di combattere ma è un rifugio sicuro per chi non vuole questo tipo di vita. Quindi Lorne tiene Silver Lake esattamente come teneva il Caritas e non vuole entrare attivamente in battaglia ma ufficiosamente cerca comunque di aiutare il suo caro amico Angel. Un altro Lord che scopriamo conoscere è il Lord di Beverly Hills che niente po' di meno è Spike che è circondato da belle ragazze come se fosse nella villa di Playboy però allo stesso tempo lui quando non si diletta a tenere impegnate le signore umane o meno umane che siano tra cui la sua diciamo la sua ragazza preferita che chiama affettuosamente Spider e poi scopriremo perché sotto diciamo in cantina tiene rifugiati così come fa Connor in un'altra parte della città tutti gli esseri umani che vogliono appunto scappare da questa guerra tra bande demoniache. Illyria è rimasta molto affezionata a Spike tanto da diventare una sorta di guardia del corpo del nostro orsetto biondo e quindi la vediamo anche lei a Beverly Hills. Tutto questo gruppo si unirà per la battaglia tra le gang demoniache che istituiranno una sorta di torneo per la testa di Angel e in tutto questo si scoprirà poi che sarà Gunn a tirare molte delle fila di quello che c'è dietro perché lui ha tutta l'intenzione di sguinzagliare Illyria. Infatti finalmente alla fine di questo primo arco narrativo vedremo che Illyria vedremo Illyria nella sua forma antica demoniaca quindi non nel corpo di Fred ma nella sua forma primordiale. Quello che non vi ho detto all'inizio e che anche chi legge la storia scopre mano a mano è che la profezia Shanshu nel frattempo si è avverata. Il vampiro con l'anima dopo aver combattuto numerose battaglie sarà reso umano. Angel non è più un vampiro, Angel è un essere umano, Angel è mortale e mortale è un termine quantomeno azzeccato in questo contesto perché Angel è letteralmente a pezzi. Riesce a stare insieme dalle sue ferite interne ed esterne grazie alla magia della Wolfram e Art ma altrimenti sarebbe moribondo esattamente come lo era Gunn. Proprio quando questa magia gli viene sottratta e Angel torna a sanguinare copiosamente e quindi a morire da un momento all'altro si scopre che non è intenzione della Wolfram e Art che Angel debba morire proprio perché secondo la Wolfram e Art lui giocherà un ruolo chiave nella loro apocalisse dalla loro parte e quindi la Wolfram e Art ha tutte le intenzioni di tenere in vita Angel. Quando Angel capisce questo capisce anche che l'unico modo che ha per riportare le cose allo stato originale sia quello proprio di morire. Morendo la Wolfram e Art che ha investito così tanto in Angel non potrà fare altro che riavvolgere il tempo a prima che le cose andassero all'inferno letteralmente. So che sembra proprio una cattiva scrittura l'espediente narrativo di utilizzare il riavvolgimento del tempo però devo dire che lo fanno anche in modo abbastanza sapiente ovvero il tempo verrà riavvolto ma tutte le persone coinvolte nell'inferno in terra a Los Angeles si ricorderanno quello che è successo quindi il tempo si è stato riavvolto ma tutto quello che abbiamo letto non è vanificato. Questo cosa significa? Che torniamo dopo questo arco narrativo a quella notte nel vicolo dove appunto Angel fa diciamo pace con il drago e lo porta dalla sua parte e cerca di distruggere questo esercito ma è ben consapevole che non può lasciare Gunn morente in un vicolo o diventerebbe un vampiro o diventerebbe il big bad della stagione 6 quindi fa di tutto per salvarlo lo porta in ospedale vediamo appunto l'epilogo di questo arco narrativo con Gunn curato subito all'ospedale di Silver Lake e quindi non divenire mai un vampiro nonostante si possa dire che tutti sono comunque responsabili delle proprie azioni successe all'inferno su Los Angeles in qualche modo dobbiamo escludere Gunn perché non era più Gunn in quel momento lui era morto ed era stato diciamo sostituito dal vampiro Gunn questo tenetelo ben presente perché comunque nel secondo arco narrativo ci sarà parecchia maretta tra Gunn e Connor per le azioni del passato passato che però non è tecnicamente successo per quanto riguarda Gunn perché comunque Gunn era posseduto da un'entità demoniaca l'entità del vampiro non mancano anche altre vecchie amicizie di Angel tra cui ci sarà anche il Grusalag ad aiutare in questa fantastica battaglia questa è la copertina finale della pagina del numero 17 di Angel dopo la tutta vediamo Nina che è sia lupa che essere umano perché nell'inferno ci sono sia il sole che la luna in contemporanea vediamo Angel Connor questa credo sia Kate Gwen Raiden Cordelia che appare nell'ultimo chiamiamolo episodio per avere un confronto con Angel su cosa sia giusto fare se appunto morire o continuare a combattere per le prossime apocalissi abbiamo Wesley Wyndham Price Visione Fantasma abbiamo Illyria abbiamo Spike con la sua amica Spider che come vedete è una bellissima ragazza che però ha delle zampette da ragno che gli spuntano dalla schiena il Grusalag Lorna questa è un'altra delle tirapiedi di Spike e poi eccetera eccetera tante persone a Los Angeles per questa battaglia devo dirvi che tra le due parti della sesta stagione di Angel quella che più mi ha dato le stesse sensazioni di inquietudine interiore che mi dava la serie televisiva è stata questa prima parte quella che purtroppo poi è stata riavvolta nel tempo la seconda parte ha tutt'altre vibes anche perché molti personaggi si sono aggiunti personaggi nuovi che non ci sono nel telefilm e molti personaggi sono venuti meno perché appunto sono morti o comunque sono usciti di scena devo ancora finirla questa seconda parte quindi poi vedremo come andrà a finire ne parleremo insieme ringrazio ancora buffy italian world per avermi dato la seconda parte in modo da poterla raccontare meglio anche a tutti voi e poi parleremo dell'ottava e della nona stagione di buffy io vi ringrazio come sempre per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video